tra i molti tesori conservati a Cascina al Museo della Società Operaia. Gran Ducato è venuto a riprendere la mostra dedicata a una pittore che è Leonardo Ciucci scelto dalla Società Operaia di Cascina per i suoi particolari indirizzi stilistici di resa grafica che è piaciuta molto al suo presidente Mary Gronchi. Però nel contempo abbiamo fatto anche una scoperta molto interessante. In epoche, in periodi non legali, in periodo del Covid, della pandemia, con le sue ristrettezze obbligatorie si è profuso un vero e proprio atto d'amore che ha portato un luogo che è apparentemente piccolo a essere depositario della storia stessa di Cascina. Questo mobile ci racconta la bravura e la tradizione degli operai, dei falegnami, dei produttori di mobili di Cascina. Qui c'è probabilmente la storia racchiusa in queste stanze che descrive la Società Operaia di Cascina e tutte le particolarità che ne hanno fatto la storia. Sì, è proprio così. La Società Operaia di Cascina, possiamo dire che da 160 anni, perché quest'anno fa veramente 160 anni, custodisce tutto il patrimonio storico e culturale di Cascina e di tutto il suo territorio e della storia dell'artigianato artistico toscano. E in questi ultimi anni noi volontari ci siamo prodigati con tutto il nostro amore a sistemare questa grande sede facendo sì che potesse diventare il museo della Società Operaia di Cascina Legno e Mestieri, entrato a far parte dell'Associazione Piccoli Musei Italiani. Ecco, questi due anni, ho citato prima il periodo del Covid, la pandemia, insomma, in maniera da non farsi vedere, comunque avete agito con amore, perché fino a quel periodo lì questo era una sorta di deposito di, insomma, c'era di tutto, potrebbe essere buttato via tutto, invece voi avete raccolto e conservato tutto il materiale. Materiale che è visibile nella sua grande ampiezza di quantità, materiale trovato sia di carattere strumentale come anche materiale fotografico, documentario, c'è tanto da raccontare. Sì, c'è tanto da raccontare e diciamo che abbiamo provveduto a dedicare ogni stanza un tema. E diciamo così, abbiamo riordinato, sì, abbiamo sistemato in modo amorevole, e abbiamo dedicato così la stanza del disegno dedicato all'arredamento antico, dalla metà del 1800 ad oggi, con tutta l'evoluzione stilistica. Abbiamo raccolto tutte le donazioni degli attrezzi, dei falegname, anche questi dal 1800 ad oggi. Abbiamo dedicato la stanza della biblioteca storica di Cascina. Voglio ricordare che la società operai ha fondato anche una delle primissime biblioteche ambulanti d'Italia, quando si prodigava con un barroccio a istruire gli analfabeti che vivevano nelle campagne. Abbiamo due stanze dedicate a tutta la nostra collezione di foto e video storici. Ne abbiamo circa 300 mila, proprio su Cascina e tutto il territorio. Poi abbiamo anche altre stanze dedicate a pittori, alla società operaia di consumo di Casciavola, con tutta la sua storia e molto altro. Chi viene qui dentro può veramente capire la storia delle nascite delle società operaie, che voglio ricordare sono nate prima dell'Unità d'Italia. Bene, allora grazie a Mary Gronchi, molto si è salvato, altrimenti tanto sarebbe andato perso. Il Conservatorio Maschera...